Il dato che è emerso con chiarezza è che più aumenta l'altezza e più sono aumentate in questi ultimi decenni le temperature. Di fronte a un aumento medio in pianura dello 0,5 e 0,6 gradi, sulla zona della Betone siamo a 1,2 gradi e per esempio il Cimone, che è un'altezza ancora maggiore, ha un aumento delle temperature ancora più rilevante nel periodo considerato e si parla circa 40 anni. Marco Nicolai, consigliere regionale, presidente della Commissione Aree Interne, cita così i dati scientifici che sono stati comunicati durante l'audizione di alcuni giorni fa dai tecnici dell'AMMA sull'andamento delle temperature degli ultimi anni in Toscana. Abbiamo voluto che fosse il LAMMA a darci il quadro della situazione perché non è che ci si può affidare solo di percezioni rispetto alla questione del cambiamento climatico, occorre avere dei dati scientifici e l'AMMA ha una professionalità a livello nazionale riconosciuta sul tema. Emerge quindi che il cambiamento climatico non è una percezione, c'è un aumento delle temperature e questo comporta anche per il sistema neve una serie di impatti sia in merito alla durata della stazione scistica, sempre più corta, sia anche come approvvigionamento idrico. Questo però vuol dire anche rivedere quelle che sono le scelte anche delle singole amministrazioni montane su quelle che è anche l'impatto appunto del sistema neve. Non significa che scompare il turismo bianco sulla nostra montagna, significa che occorre adattarci a uno scenario diverso, diversificare perché ovviamente occorre cercare appunto di destagionalizzare e avere un'offerta complessiva dal punto di vista turistico che assicuri ovviamente alle imprese di stare in piedi. Il collasso del sistema turistico comporterebbe un ulteriore impoverimento di territori già fragili e la commissionaria interna ovviamente lavora affinché questo non avvenga. Allo stesso tempo occorre fare una valutazione prospettica non sul momento ma di medio e lungo periodo per orientare gli investimenti e anche le forme di supporto alle stazioni scistiche della Toscana. È quello su cui la commissione sta lavorando.